Ben ritrovati in questo nuovo video di YouTube. Oggi è giovedì 14 marzo 2024. Siamo nella settimana che ha accompagnato l'eliminazione di tutte le squadre italiane dalla Champions League e diciamo che va un pochettino a invertire quella tendenza che invece l'anno scorso ne aveva viste tantissime arrivare fino in semifinale e addirittura l'Inter in finale. Dal punto di vista del raking europeo per quanto riguarda le italiane ci sarà un attimino da controllare quello che accadrà per le altre nazioni perché come ben sappiamo c'è la possibilità anche di avere una quinta qualificata alla Champions per l'anno prossimo. Poi vediamo cosa succede al Milan che è comunque all'interno dell'Europa League così come l'Atalanta e oggi giocheranno le gare di ritorno. Il Milan aveva già vinto la gara d'andata mentre l'Atalanta invece ha pareggiato con lo Sporting e sarà una partita un pelo più combattuta. Diciamo che forse il calcio italiano va a ridimensionare quella che l'anno scorso sembrava una ventata d'aria fresca. Io ero sempre stato abbastanza scettico sul calcio italiano in generale ero convinto che l'anno scorso il sorteggio potesse aver aiutato e non poco le italiane e poi c'era il Napoli che l'anno scorso stava facendo una stagione meravigliosa che quest'anno ha cambiato mille guide tecniche e invece pensavo che l'Inter quest'anno potesse andare avanti. Devo dirvi la verità, quando ieri sera ho acceso e ho guardato i calci di rigore mi sono recuperato stamattina soltanto i primi 35 minuti e poi al gol di Griezmann ho dovuto spegnere la partita ma quando sono arrivato a vedere i tempi supplementari e soprattutto i calci di rigore ero convintissimo che Lautaro Martinez avrebbe poi sbagliato il gol decisivo non sapevo ovviamente potesse battere il quinto però ero convinto che potesse impattare un errore di Lautaro quando l'ho visto sul dischetto come ultimo mi aspettavo assolutamente un errore ma non mi aspettavo assolutamente il pallone tirato nell'iperspazio questa è stata una cosa che mi ha abbastanza sorpreso ero convinto lo sbagliasse classe, non aveva proprio la faccia terrorizzata e non pensavo che la difesa dell'Inter potesse fare un errore come quello che ha permesso poi appunto a Griezmann di pareggiare la partita pochi minuti dopo il gol di Di Marco secondo me, e lo dice uno che ha visto soltanto il primo tempo e i supplementari rigori del ritorno non ha visto il secondo tempo però sono abbastanza convinto che la partita d'andata abbia impattato e tanto su questo risultato perché l'Inter ha avuto tantissime occasioni a San Siro tantissime chance di concretizzare anche più di un gol di vantaggio perché quando termini un'andata in cui hai avuto tante occasioni contro l'Atletico Madrid e fai soltanto un gol sai che poi quando vai in Spagna è difficile, è lunga ed è complicata e noi lo sappiamo bene lo sappiamo bene perché per noi è stato invertito quella rimonta stratosferica con tripletta di Cristiano Ronaldo dove a Wanda, anche se ora non si chiama più Wanda abbiamo perso per due gol a zero invece in casa abbiamo cercato di ribaltare il risultato riuscendoci appunto con quella che è stata l'ultima grande Juve europea perché ragionavo proprio l'altra sera sul fatto che è il terzo anno questo in cui il gol fuori casa non vale doppio per la Champions beh la Juve al primo anno è uscito agli ottavi contro il Villareal e quindi non è riuscita ad andare avanti e a sfruttare al meglio questa nuova regola l'anno scorso siamo usciti ai gironi quest'anno la Champions non l'abbiamo fatta è stata un'annata avara di emozioni per la Juventus in campo europeo speriamo che l'anno prossimo tra Champions League si augura di raggiungere le prossime partite anche se vedo molto pessimismo in realtà tra i tifosi della Juventus io credo che la Juve in Champions ci andrà ma questo è un altro discorso e soprattutto il mondiale per club che la Juventus sia guadagnata con l'eliminazione del Napoli proprio l'altra sera si possa cercare di fare una stagione abbastanza diversa da quella attuale dove ci si è fermati a febbraio troppo presto perché la stagione non possa finire a febbraio ora la Juventus deve chiudere al meglio cercando di fare più punti possibili cercando di arrivare anche in finale di Coppa Italia cercando di vincere la Coppa Italia e qualificarsi anche per quella che sarà la Super Coppa Italiana l'anno prossimo perché le squadre come la Juve non possono accontentarsi del minimo sindacale e per forza di cose bisognerà passare dal mercato e in questi giorni si è chiacchierato e anche tanto di un giocatore in particolare che proprio la Juventus conosce bene perché c'è stata la doppietta di Copmeiners proprio l'altro giorno all'Allianz Stadium primi gol nel suo prossimo stadio boh punto di domanda parto dal presupposto che io sono calcisticamente innamorato di Copmeiners tutte le volte che lo vedo giocare veramente minchino dinnanzi a un giocatore che considero completo e sbocciato è un classe 98 quindi è in quel momento di carriera in cui deve decidere che cosa fare è un giocatore che è inserito nel contesto Atalanta e noi sappiamo bene perché questo dovrebbe essere l'ottavo anno di Gasperini vado a memoria all'Atalanta che quando ci sono dei giocatori che a Bergamo si mettano in primo piano poi bisogna cercare anche di capire quelli che possono replicare fuori da Bergamo e quelli che invece stanno facendo molto bene per via di Gasperini ecco io credo che Copmeiners appartenga un po' a quello schieramento di giocatori che anche fuori da Bergamo possono fare bene io credo che Copmeiners in Serie A possa essere un giocatore fenomenale tra i primissimi da big, da grande squadra da Juventus anche da Inter sebbene l'Inter abbia già un centrocampo molto ampio da Milan assolutamente dalle squadre che lottano tutti gli anni per accaparrarsi le primissime posizioni soprattutto i trofei i titoli, gli scudetti io credo che in Serie A Copmeiners possa essere assolutamente un giocatore impattante tanto quanto l'è stato magari Milenkovic nelle stagioni precedenti sull'estero vado un po' più cauto non ho idea di quello che potrebbe essere il livello di Copmeiners non lo so banalmente all'interno di una Premier League banalmente mica tanto dato che è il campionato di riferimento sembrerebbe che Giuntoli possa addirittura aver parlato già con gli agenti di Copmeiners con l'Atalanta per questa valutazione del giocatore valutazione molto molto elevata perché si parla di una cifra intorno ai 60 milioni di euro domanda delle domande spenderei 60 milioni di euro per Copmeiners del quale sono innamorato centrocampista qualitativo che la Juventus potrebbe dare qualcosa in più no non lo farei perché la cifra è comunque fuori da qualsiasi tipo di logica per quelli che sono gli interessi della Juventus di oggi qualcuno verrà a dirmi sì però ci siamo qualificati in Champions magari sì però magari col Mondiale sì però magari con delle eccessioni e io vi rispondo no comunque quelle cifre per questi giocatori non li spenderei Copmeiners lo adoro Copmeiners sarebbe l'ideale nella Juventus secondo me e vi ho portato appunto un video qualche giorno fa in cui vi dicevo l'unico acquisto che si potrebbe fare per immaginare una Juventus di Tiago Motta stile Bologna di quest'anno potrebbe essere proprio Copmeiners e comunque è una cifra che io ritengo eccessiva per le casse della Juventus del giorno d'oggi anche perché se dobbiamo per forza di cose fare un unico grande investimento e castrare eventualmente il mercato da altre parti o cessioni importanti come potrebbe essere quella di Uisen alla Roma o di Sule in giro per il mondo si è parlato anche proprio della possibilità di incastrare Sule in questo scambio con l'Atalanta per ridurre sì ma ridurre 60 milioni ragazzi Sule è un giocatore che sta facendo molto bene in quest'annata allora delle due se devo ridurre la valutazione di 30 milioni e aggiungere 30 milioni a Sule delle due provo a vedere se Sule può essere un giocatore importante impattante alla Juventus perché se no questi continui prestiti questi giocatori che vengono messi all'interno di formazioni come il Frosinone senza particolari pressioni dove possono crescere migliorare sbocciare Sule quest'anno sta facendo un campionato meraviglioso pensare che possa valere una trentina di milioni per andare a prendere Cobbeners che è fortissimo fortissimo che ne vale 60 quel 60 li vale perché perché l'Atalanta è una bottega cara oggi la Juve non è più in grado di fare i colpi gli acquisti come faceva una volta tornerà a farli boh non lo so ad oggi sicuramente la priorità della Juventus è essere una squadra che riesce ad autofinanziarsi sì certo ma aggiungo io e non deve mai passare in secondo piano questa roba essere anche una società ambiziosa perché l'autofinanziamento deve essere un obiettivo per cercare di garantire alla Juventus una sostenibilità economica indubbiamente non devono più esserci aumenti di capitale non devono esserci più azionisti che immettono denaro vanno a coprire questi buchi che sono stati fatti nell'arco negli anni in cui si vinceva tanti errori anche del passato forse anche un po' troppa ambizioni rispetto a quelle che potevano essere le possibilità anzi senza il forse con il senno di poi però non deve mai mancare l'ambizione perché soprattutto la Juventus che ha investito su questo progetto relativo alla next gen e che ha la volontà di provare anche con delle strade alternative dei prestiti per valorizzare determinati giocatori poi questi determinati giocatori non devono essere valigette piene di soldi con le gambe perché non possono essere solo ammortizzare altri giocatori il player trading secondo me per quella che è la situazione italiana dovrà ridursi nei prossimi anni basti guardare il Barcellona che ha dei grossissimi debiti delle grossissime difficoltà ha fatto due o tre acquisti di giocatori di qualità giocatori di esperienza ha preso Lewandowski ha preso Cancelo ha preso Gundogan importa Chatterstegen però poi intorno cosa fa si affida a quelli che sono i talenti della cantera giocatori che anche se non hanno grandissima esperienza cerchi di valorizzare questa deve essere secondo me secondo me la linea guida della Juve piuttosto che andare a prendere Cobbeners a 60 ripeto sono innamorato di Cobbeners se ci fosse la possibilità di prenderlo a 40 lo prendo ieri non oggi però 60 milioni che poi vanno a modificare tutte le altre operazioni di mercato e che ti portano anche magari dei sacrifici sinceramente non li farei la Juventus ha questa fortuna di essere partita prima delle altre con questo progetto in questo momento questo progetto sta dando i suoi frutti e immaginarsi una Juventus che l'anno prossimo può partire con Sule Uisen Ildis per citarne tre banalmente tre senza citare tutti gli altri che potrebbero venire fuori i vari Barrenecea che a me ancora non convince Cagliorghe su cui ho ancora dei dubbi però questi tre qui secondo me hanno dimostrato in serie A di essere dei giocatori con del potenziale pensare di cederli uno due spero non tutti e tre per andare a prendere degli altri giocatori che invece semplicemente hanno dimostrato di più perché sono diventati dei punti di riferimento per le squadre un po' più grandi mi dispiacerebbe mi dispiacerebbe perché secondo me dobbiamo anche un po' scrollarci di dosso questo preconcetto secondo il quale se i giocatori non hanno fatto il determinato percorso non possono essere impattanti no possono esserlo e secondo me la Juve deve davvero cercare di aprire questo nuovo tipo di scenario con una valorizzazione ancora più importante per quello l'altro giorno mi faceva un po' arrabbiare sentire Vlaovic considerato giovane Cambiaso considerato giovane Ken considerato giovane sono dei classi 2000 hanno 24 anni che non sono vecchi però calcisticamente parlando sono giocatori che entrano all'interno di quella che è l'annata o le due annate o il triennio decisivo per formare le carriere quindi andare a spendere 60 milioni di euro per un giocatore come Comainers oggi la ritengo un po' una follia che non significa che la Juventus dovrà solo fare degli acquisti o valorizzare i giocatori perché le squadre forti secondo me sempre secondo me sono tutte opinioni sono composte da un mix di giocatori di esperienza dei giocatori in rampa di lancio esempio ci fosse la possibilità di andare a prendere Toni Kroos a parametro zero io il ragionamento ce lo farei perché è un giocatore che al calcio ha dato tanto ed è un giocatore che secondo me ha ancora tanto da dare non significa che se un giocatore ha più di 30 anni non lo devi andare a prendere devi rapportarlo con quelli che sono i costi di cartellino di ammortamento di ingaggio quanto ancora effettivamente integro fisicamente quanto ancora può dare dal punto di vista delle prospettive di impegno o di realizzazione pancia piena quello che è perché ci sono stati tanti giocatori anche nel recente passato la Juve che sono arrivati a un'età elevata eppure hanno dato tantissimo non significa che la Juventus oggi debba focalizzarsi solo sui ragazzi penso a Tevez penso a Pirlo penso a Chedira sono tre degli esempi che mi vengono in mente penso a Gonzalo Higuain però vedete Gonzalo Higuain si scontra col fatto che il cartellino è stato pagato una cifra che oggi la Juventus non può più permettersi o comunque non può più fare quei tipi di ragionamenti perché l'ultima volta che ha pagato quei soldi è stato per Vlaovic ma era un ragazzo di una ventina d'anni quindi aveva più senso perché lo puoi ammortizzare secondo me la Juve sta iniziando a ragionare un po' sul mercato ci sono anche dei parametri zero interessanti da poter cercare di chiudere c'è il nome di Felipe Anderson che è sempre attuale è un altro di quelli che se ha un ingaggio abbastanza contenuto con una prospettiva contrattuale non eccessivamente lunga e si arriva per non fare il titolare ci sta alla grande nelle rotazioni come giocatore quindi non è un discorso solo di età è un discorso anche economico e soprattutto sportivo perché oggi la Juve si con la qualificazione al mondiale per club respira se si qualificherà la Champions e per me non è in dubbio respirerà si avrà la possibilità di giocare anche la Supercoppa meglio ancora se la Juventus riuscirà ad arrivare seconda ancora meglio perché sono dei soldi in più però non significa che adesso si debba tornare a spendere e spandere come una volta perché bisogna anche guardare quella che è la solidità economica che negli ultimi anni è stata messa a serio pericolo ragazzi ci vediamo oggi alle 14 su Twitch Bobo TV Channel doppio passo abbiamo preparato una puntata di quelle piccantini bollenti parliamo tanto delle europee delle partite europee delle squadre europee in Italia prima ho parlato di Atalanta e Milan mi ero dimenticato della Roma che all'andata ha vinto 4-0 con il Brighton di The Serbia altra tematica che affronteremo oggi e non solo perché parleremo anche della crisi Juve e cercheremo di capire come uscirne ciao